Addio al reddito di cittadinanza. Oggi, 31 luglio, per molti percettori si mette la parola fine a un sussidio che ha aiutato tante famiglie, ma anche fatto di scudere. Nella nostra regione il 2023 i riceventi di almeno una mensilità sono stati oltre 42.000 con un importo medio di circa 560 euro, ma di questi circa 15.000 persone dovranno dire addio a partire da oggi a questa entrata. Ad avvisarne nei giorni scorsi è stato un sms. Il messaggino è arrivato a chi e i nuclei familiari nei quali non ci sono componenti disabili, minori, over 65, come prevede la nuova normativa. Hanno ricevuto nei giorni scorsi un sms, peraltro con un messaggio molto poco chiaro da parte dell'Inps perché lascia qualche speranza, ma purtroppo per molti questa speranza sarà bana perché non prenderanno più nulla. Chi continuerà a ricevere il sussidio lo farà fino al 31 dicembre, questo perché a partire dal 1 gennaio queste famiglie potranno chiedere l'assegno di inclusione. Una misura simile nei requisiti e nella misura che dovrà essere oggetto di un nuovo specifico decreto attuativo. La provincia con il più alto numero di persone che in questi anni hanno percepito il reddito è quella di Pescara, seguita da Chieti, L'Aquila e Teramo. La situazione sarà questa, qualcuno preso in carico dai servizi sociali potrà continuare a prendere la misura a condizione però che i servizi sociali del comune riescano effettivamente a seguirli. E anche questo è un problema perché conosciamo le condizioni di questi uffici, conosciamo le difficoltà occupazionali, conosciamo il fatto che ci sono tante richieste e pochi operatori poi per seguire queste pratiche. Quindi abbiamo chiesto anche che i comuni possano aumentare il proprio personale per trovare una soluzione sociale a questi bisogni. I nuclei con persone tra i 18 e i 59 anni potranno soffrire del supporto per la formazione e il lavoro. Una nuova misura del valore di circa 350 euro mensili erogati solo nei mesi in cui saranno attivi i percorsi formativi. È una misura, è un momento straordinario sia dal punto di vista burocratico per le pratiche che occorreranno ma anche dal punto di vista sociale per le richieste che arriveranno ai comuni. Non a caso abbiamo coinvolto qualche giorno fa come CGL, Lanci, regionale che ha condiviso le nostre preoccupazioni e la nostra denuncia. Al momento purtroppo non è bastato perché la misura è rimasta questa e il governo nonostante le tante richieste non ha ritenuto di prorogarla. Noi ci auguriamo e continueremo a batterci perché questo accada. Uno stop all'erogazione che per i sindacati rischia di sfociare in una vera e propria bomba sociale. Noi lo denunciamo da tempo che il rischio sia questo da un lato perché ci sono persone che fino ad oggi vivevano in qualche modo grazie al reddito di cittadinanza e non avranno più di che mangiare. Quindi questo sarà un problema, un problema che si riverserà sui territori. Di contro avremo un problema che comunque investirà anche per esempio i centri per l'impiego perché si parla di formazione ma una formazione che ad oggi è difficile da organizzare e che comunque non c'è e che permetterebbe di accedere a una misura ma che è comunque inferiore rispetto al reddito di cittadinanza.